In seguito a delle verifiche effettuate, la informiamo che l'offerta attiva sulla sua linea fissa è terminata con una maggiorazione di 25 euro mensili, in più rispetto al piano attuale, a partire dalla mezzanotte di oggi, se desidera maggiori informazioni riguardo a tale scadenza. Digiti il tasto 1 per essere messo in collegamento entro pochi secondi con uno dei nostri operatori.